Qua la vita a Paperopoli è un gran sballo, corri voli in aeroplano, ma che sballo, storie di paperi, ma che bei paperi! DuckDates, ogni giorno c'è una nuova storia, misteriosa, paperosa, DuckDates, fai attenzione, c'è qualcuno alle spalle che ti spia, non aver paura, sono DuckDates, personaggi strabilianti, DuckDates! Grandi storie divertenti, DuckDates, le favole più belle sono DuckDates!